Il GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, ha disposto la custodia in carcere nei confronti del 54enne albanese, accusato di aver accoltellato la moglie 43enne nella sera del 20 maggio d'Acquaviva delle Fonti, l'uomo che ha confessato e accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto in danno della coniuge convivente. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti aiutati dalla testimonianza della figlia 16enne della coppia, che il tentato omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio scoppiato perché l'uomo si opponeva alla volontà della donna di divorziare. Durante la lite il marito avrebbe preso un lungo coltello della cucina dell'abitazione, seguendo la moglie che era andata sul terrazzo per stendere il bucato, e l'avrebbe poi colpita con almeno tre coltellate al torace e all'addome, provocandole una grave lesione al polmone. A salvare la donna è stata proprio la figlia di 16 anni, che dopo aver sentito dei rumori provenienti dal terrazzo, secondo la ricostruzione del jeep, si è frapposta tra suo padre e sua madre, evitando che quest'ultima venisse ulteriormente colpita. La ragazza ha poi visto il coltello cadere per terra, lo ha raccolto e lo ha lanciato fuori dal terrazzo, prima di bloccare il padre e permettere alla mamma di fuggire per strada. E chiama di soccorsi, ricoverata al polcnico di Bari, la donna è stata operata e le sue condizioni sono in via di miglioramento. Dopo l'accoltellamento e diversamente da quanto emerso, in un primo momento l'uomo si è recato spontaneamente nella stazione dei carabinieri del suo paese, ammettendo quanto aveva fatto e manifestando pentimento e proposito di suicidio. L'uomo è attualmente sotto processo per maltrattamenti nei confronti della moglie e la figlia, ha dichiarato agli inquirenti di aver visto in passato il padre picchiare la madre. Per la jeep, quindi, l'uomo ha manifestato un'indole particolarmente violenta, ponendo in essere i comportamenti riprovevoli, dei quali si è reso autore in misura sempre crescente, dimostrando di non essere in grado di dominare i propri impulsi criminali. Per questo, riconoscendo dolo diretto nelle sue azioni, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.